Sapete qual è il trucco per far filare la mozzarella nei suppli al telefono? Ve lo svelo io tra pochissimo! Fate un soffritto di sedano, carota e cipolla. Quando le verdure saranno ben rosolate, unite la passata di pomodoro e il basilico, fate cuocere per 10 minuti e poi aggiungete il riso. Lasciatelo cuocere a fuoco lento aggiungendo acqua calda o brodo fino a che la cottura non sarà ultimata. Una volta pronto, lasciatelo raffreddare completamente. Poi aggiungete il parmigiano e formate i suppli mettendo al centro un pezzo di mozzarella strizzata benissimo. Passateli nella farina, nell'uovo sbattuto e nel pan grattato e poi friggeteli in olio di semi ben caldo. Se volete essere certi che la mozzarella fili, lasciateli riposare un paio di minuti e poi friggeteli una seconda volta solo per qualche istante. E... ta-da! Siete pronti a rispondere al telefono?